Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel e benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato alla rubrica nutrizione e benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che per questa edizione ci parlerà della cefalea e alimentazione. E allora dottore, molte volte, ecco, spesso si soffre di mal di testa in correlazione ad un alimento che si è, insomma, assunto. Quindi quali sono gli alimenti che potrebbero scatenare il classico mal di testa? Sì, allora, innanzitutto ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha avuto un episodio di cefalea. In genere sono più le donne a soffrirne e le cefalee vengono suddivise in primarie quando, per esempio, è il caso dell'emicrania oppure della cefalea tensiva, che è la forma più diffusa, oppure possono essere secondarie ad un'altra patologia, oppure ci sono altre cefalee, come per esempio la nevragia del trigemino. Perché ci riguarda? Perché in effetti sono tanti i fattori scatenanti un attacco di cefalea. Andiamo dallo stress fisico, emotivo, l'alterazione del ritmo sonno-veglia, l'inquinamento, alcuni fattori ambientali, come per esempio delle luci, degli odori molto forti, e ovviamente anche l'alimentazione. Alcuni alimenti possono scatenare un attacco di cefalea perché causano un'alterazione della motilità dei vasi sanguigni a livello cerebrale, sia restringendoli che dilatandoli, altri invece perché contengono delle sostanze come per esempio i nitrati, il glutamato di sodio, l'istamina. Ovviamente prima di eliminare dalla propria dieta un alimento o una categoria di alimenti, è bene redarre un diario alimentare in cui segnarsi cosa si è mangiato e se si è verificato un attacco di cefalea e anche il lasso di tempo che ne è passato. Questo perché proprio dobbiamo cercare di individuare l'alimento esatto e il gruppo di alimenti, proprio per evitare anche delle carenze nutrizionali nella propria dieta. Ovviamente non va confuso l'alimento che causa la cefalea con un'intolleranza alimentare, perché la cefalea è uno dei sintomi dell'intolleranza alimentare, ma nel caso dell'intolleranza appunto ci devono essere anche altri sintomi. Volendo elencare questi alimenti, quali sono? Sicuramente l'alcol, la caffeina, il cioccolato, delle sarse a base di soia, le zuppe in scatola, ma anche degli alimenti come il pomodoro, la cipolla, gli agrumi, i semi di girasole. Altri alimenti invece sono un po' borderline, cioè c'è un po' una sensibilità individuale, come può essere appunto il caso anche della caffeina o del cioccolato, che non a tutti hanno lo stesso effetto, cioè di scatenare una cefalea. Infatti a proposito della caffeina, possiamo sfatare il mito oppure possiamo dire che è vera questa notizia, cioè che il caffè amaro fa calmare la cefalea? Che lo faccia calmare no, però ci sono degli studi che hanno dimostrato che non è più come noi si pensava una volta, cioè che potesse essere un fattore scatenante la cefalea, anzi lo può anche prevenire, ovviamente sempre nelle dosi giuste. Altri consigli riguardano di evitare il digiuno prolungato, questo perché comunque causa un'ipoglicemia che può essere un fattore scatenante e così anche si consiglia comunque una dieta più equilibrata e più variata possibile, preferendo quindi il pesce fresco, la verdura, i legumi e anche di evitare comunque le diete drastiche che possono essere anche queste una causa di cefalea. Grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori, l'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna la prossima settimana.